Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, indagini anche nell'Aretino, 100 e i finanzieri in campo per smantellare quella che gli inquirenti hanno definito un vero e proprio hub dedicato al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza di Siena hanno appunto toccato anche il nostro territorio lo scorso 6 marzo. Le fiamme gialle hanno controllato in Valdichiana le posizioni di alcune badanti che lavorano presso le famiglie. Secondo gli inquirenti è emersa l'esistenza di un gruppo criminale strutturato e composto da 7 persone di cui 5 sodali e 2 collaboratori esterni dedito appunto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e all'impiego di personale straniero non in regola con il permesso di soggiorno. In tre sono stati arrestati. C'è allarme nella categoria degli orafi per l'ultimo assalto, l'ultimo soltanto in ordine di tempo alla Jessica Jewels e adesso è stato chiesto un incontro al prefetto. Qui è una successione di eventi drammatici quindi le viviamo con apprezzione, le viviamo con apprezzione tutti i giorni perché può succedere da un momento all'altro ed è impreventivabile. Torna a crescere la preoccupazione degli orafi a retini dopo l'ultimo colpo messo a segno, quello la Jessica Jewels di Ponticino. Un vero e proprio assalto da firma studiato nei minimi particolari che avrebbe fruttato alla banda di ladri un bottino da oltre mezzo milione di euro. Questo è il problema vero perché non si tratta più di un furtarello ma si tratta di gente professionista nel proprio lavoro e diventa anche complicato difendersi con sistemi d'allarme che però fortunatamente funzionano e qualche volta riescono ad impedire che il furto fatto sia un disastro. Il primo a lanciare l'appello alle istituzioni e alle forze dell'ordine era stato proprio il titolare dell'azienda colpita. Qui siamo di fronte di nuovo a una nuova ondata che andrà a mio avviso in qualche modo fronteggiata senza aspettare che poi questo risucceda di nuovo. Le richieste di una maggior sicurezza sul territorio adesso si moltiplicano. Speriamo che le forze dell'ordine che già ci danno supporto possano aumentare il supporto alle aziende perché ce n'è bisogno. A breve la consulta degli orafi avrà un incontro con il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca. Rubano 18 mila euro in un McDonald's del nord Italia, poi questa coppia di ladri è stata invece fermata e arrestata dalla polstrada di Battifolle. Sono stati traditi dall'odore dell'auto un pungente odore ferroso proveniente dalla BMW usata per la fuga, probabilmente dovuto all'operazione di scasso di una cassaforte. Sono stati così arrestati dalla polstrada di Arezzo i due presunti autori di un furto da ben 18 mila euro ad un fast food McDonald's a Verona avvenuto la scorsa notte. I poliziotti hanno fermato l'auto con targa straniera che stava transitando lungo la carregiata a sud della 1 nei pressi di Lucignano. Gli agenti hanno subito constatato che a bordo non c'era solamente il conducente come sembrava all'inizio, ma sul sedile posteriore, completamente sdraiata, c'era un'altra persona che dormiva. I due, un quarantenne ed un trentenne, già noti alle forze dell'ordine, avevano uno strano odore nei vestiti, così gli agenti hanno deciso di andare a fondo e controllare persone ed auto. All'interno del bagagliaio era custodita una grossa borsa contenente diversi attrezzi utili allo scasso ed un capiente marsupio pieno di contanti, ben 15.275 euro, suddiviso in banconote di vario taglio. Dai successivi accertamenti è emerso che presso il McDonald di Villa Franca di Verona era stato forzato l'ingresso, scassinata la cassaforte e asportato il contenuto pari ad oltre 18.000 euro. Forse una parte del maltolto potrebbe essere già stata consegnata ad un complice, un basista del quale è in corso l'identificazione, spiega la Polizia di Stato. Siamo alla cronaca giudiziaria, il ricorso avanzato dalla procura di Arezzo e dall'unico condannato Alberto Rigotti è stato accolto. Prenderà il via in corte d'appello a Firenze il prossimo 5 maggio il processo di secondo grado per il crack di Banca Etruria. La data è stata fissata. La sentenza di primo grado, lo ricorderete, fu pronunciata il 1 ottobre del 2021 dal presidente del collegio Giovanni Fruganti, un solo condannato Alberto Rigotti alla pena di 6 anni. Adesso tutto passerà alla corte fiorentina chiamata ad esprimersi in merito alla sentenza di primo grado che potrà essere confermata o invece riformata. Adesso invece parliamo di Legionella, c'è allarme nel territorio rettino dopo i due casi che hanno interessato altrettante strutture sanitarie e dopo anche l'annuncio di Estra, in questo caso non ci sono stati però contagiati, della chiusura degli spogliatoi. Allora noi ne abbiamo parlato con la direttrice del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL Toscana Sud-Est, Elena De Santis. La Legionella è un batterio ubiquitario che si trova negli ambienti acquatici, si trova ovunque e si trova anche negli impianti idrici domestici. La maggior parte dei casi che noi abbiamo avuto, dei casi di malattia, infatti non siamo riusciti a risalire a fonti di esposizione particolare per cui molto probabilmente l'infezione, la contaminazione era proprio all'interno delle abitazioni. E' l'azienda sanitaria a parlare di Legionella per evitare allarmismi. Ad Arezzo nelle ultime settimane alcuni casi erano infatti balzati alle cronache, l'ultimo solo pochi giorni fa nella sede di Estra dove sono stati chiusi locali menze e spogliatoi perché trovate tracce del batterio, non era però stato registrato alcun contagio. La ASLE interviene a seguito di una notifica di un caso di malattia, eseguiamo un'inchiesta epidemiologica sul malato per verificare se nei dieci giorni precedenti è stato esposto a fonti di rischio e dopodiché se emerge una potenziale fonte di rischio facciamo dei controlli proprio sull'acqua, sull'impianto idrico di quella struttura. Dal primo gennaio 2022 ad oggi sono stati rilevati 86 casi di infezioni da Legionella in tutta l'ASLE toscana sud-est. In confronto con quanto è diffusa nell'ambiente raramente da casi di malattia, può dare delle forme simili influenzali che si esauriscono nel tempo di 2-5 giorni in forma autonoma, più raramente dalle delle forme invece di polmonite che possono anche nel 10-15% dei casi essere letali. Le persone più a rischio sono le persone anziane, le persone che hanno patologie concomitanti, altri fattori di rischio sono l'esposizione a fumo di sigaretta e ad alcol e l'immunodepressione. Fondamentale dunque promuovere una consapevolezza diffusa. Nelle strutture che sono più a rischio, che sono le strutture recettive, gli ospedali, le grandi industrie, quindi tutte le strutture dove gli impianti idrici sono molto complessi, è importante che non ci siano ristagni d'acqua, quindi soprattutto nei rami morti, nei rami poco utilizzati degli impianti idrici, l'acqua venga sempre comunque fatta scorrere. Mantenere possibilmente l'acqua fredda al di sotto dei 20 gradi, se è possibile, se le tubazioni lo consentono, l'acqua calda va invece mantenuta al di sopra dei 50 gradi, magari mettendo delle valvole termostatiche agli erogatori in modo da evitare delle ustioni, facendo sempre un'accurata disinfezione dei serbatoi, delle tubature, e cambiando quando vetuste, quando arrugginite, quando diciamo corrose, i terminali sia delle docce che delle rubinetterie. Domani ricorre la giornata nazionale contro i disturbi alimentari, la giornata cosiddetta del fiocco Lilla, 15 marzo, appunto alle 16, in piazza Seiacopo a D'Arezzo, gli alunni dell'indirizzo coreutico del liceo Piero della Francesca realizzeranno un flash mob dal titolo Oltre lo specchio a Marzi dentro. L'evento è stato organizzato per sensibilizzare i propri giovani e adulti sul tema dei disturbi dell'alimentazione. Scrivono alla regione toscana e chiedono spiegazione ai comuni di Cortona e Castiglione Fiorentino per la soppressione di un treno regionale, il 18.711, che partiva da Arezzo alle 12.56, diretto poi a Chiusi, confermate a Castiglione Fiorentino, Camucia, Terontola e Castiglione del Lago. Da alcuni giorni, senza alcun preavviso e senza neppure aver aggiornato gli orari ufficiali, si è assistito appunto alla soppressione del convoglio, che è stato sostituito con un treno regionale che invece parte alle 13.10, ma che però non ferma né a Castiglione Fiorentino né a Camucia. I cuochi toscani confermano alla loro presidenza l'aretino Roberto Lodovicchi in occasione dell'assemblea elettiva dell'Unione regionale cuochi toscani. È stata dunque rinnovata la fiducia al presidente uscente per acclamazione per il prossimo mandato 2023-2026. Lo chef nato nella Valdichiana Aretina ha iniziato la sua lunga militanza nelle fila della Federazione Italiana Cuochi sin da giovanissimo accrescendo le proprie professionalità nel campo della ristorazione e del catering. Ha ricoperto diversi incarichi in federazione fino appunto a giungere alla presidenza regionale. E adesso invece parliamo di un primato tutto aretino, uno studente appunto di seconda media, quindi davvero giovanissimo, che accederà alle finali nazionali dei giochi matematici del Mediterraneo. Non mi aspettavo di vincere perché è vero che non erano difficilissimi, però pensavo di essere tipo terzo o quarto, quindi anche l'emozione di scoprire di essere il vincitore mi ha ripagato moltissimo. 13 anni il prossimo giugno è una passione per la logica e la matematica che deve alla nonna e al suo talento naturale. La passione per la matematica è iniziata con mia nonna che mi ha fatto giocare con la matematica, al memory, alle carte e quindi i giochi comuni li rivisitava per farmi imparare la matematica e poi è continuata con i miei genitori che mi hanno aiutato e valorizzato. Lorenzo frequenta la seconda media dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca di Arezzo ed è riuscito a qualificarsi per la finale nazionale dei giochi matematici del Mediterraneo 2023. La parte logica è la parte del capire il perché si applica una formula rispetto a un'altra. Sì, è per questo che nei giochi matematici trovo il mio massimo splendore, si può dire. I ragazzi viene chiesto anche appunto di uno sforzo nel ragionamento e magari di fare eventuali esercizi o prove che vanno un po' al di là di quello che può essere il programma, diciamo, specifico che si fa a scuola. Quindi sono stimolanti proprio per quello perché la matematica viene vista appunto come un gioco e soprattutto come un modo proprio per mettersi un po' alla prova. L'esercizio più difficile, quello che mi è rimasto più impresso, dovevo trovare un numero sotto 1300 che si è diviso per 3, per 5, per 7, per 4 e per 9, dava sempre il resto 1. Un istituto all'avanguardia, quello diretto da Rossella Esposito, che sviluppa da sempre le materie STEM non solo con la didattica ma anche con laboratori extrascolastici. Diciamo che i ragazzi sono incuriositi, viene incentivata la motivazione anche proprio attraverso una serie di attività laboratoriali, cioè apprendono in situazione, per cui questo stimola sicuramente la curiosità e anche la voglia di apprendere sempre di più. A Palermo il prossimo 14 maggio Lorenzo si confronterà con altri studenti che arrivano da tutta Italia, ma al di là di come andrà questa competizione, le idee sono già chiare per il futuro. Io ho l'idea di proseguire fino all'università agli studi, miro a laurearmi con il massimo dei voti e poi voglio fare qualcosa che fonda la mia passione per l'informatica con quella della matematica. E siamo alla cultura, il talento del piano Giulia Toniolo alla Camu di Arezzo per il ritorno della stagione concertistica. Il talento della giovane pianista Giulia Toniolo alla Camu, la casa della musica di Arezzo nel palazzo di Fraternita dell'Aici in Piazza Grande. Ho suonato per varie rassegne sia in Italia sia a Londra, adesso sto iniziando a poter esibirmi in qualche concerto. In Italia per esempio alla primavera di Baggio, al Teatro Napoli di Napoli per il bel mese di maggio ed altre importanti rassegne. È così tornata la nuova stagione concertistica dell'Associazione Le Sette Note. Dieci i concerti in programma sino al prossimo maggio, molti dei quali dedicati ai giovani talenti. La prima ospite, distanza a Londra, ha proposto un ricco repertorio. Una sonata di Haydn in don maggiore che è stata composta nel 1794 a Londra da Haydn. Come secondo pezzo la barcarola in fadiesis maggiore di Chopin. E per finire la sesta sonata opera 82 in la maggiore di Prokofiev. Dopo una lunga malattia si è spenta all'età di 70 anni Rossana Bonan Bernardini, una famiglia di appassionati per la musica. La sua da sempre Rossana si era distinta nel panorama aretino per la sua particolare voce blues con la quale prendeva parte alle esibizioni di varie storiche band. Tra le ultime apparizioni quella al Teatro Tenda che ha visto proprio la nostra emittente essere media partner nelle serate canore di beneficenza in favore del Calcit. Ma negli anni 90 aveva impresso la sua voce anche nei cori delle canzoni dei noi nati male. I funerali si terranno domani, mercoledì 15 marzo alle 14.30 nella chiesa di Sant'Agnese in Pescaiola alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione. E siamo allo sport, torna subito in campo l'Amen Scola Basket Arezzo per il secondo e ultimo turno infrasettimanale proposto dal calendario del campionato di serie C-Gold. Alle 21.15 di domani gli arbitri Montano e Forte di Siena alzeranno la palla a due della sfida tra gli Amaranto di coach evangelisti e la synergy guidata in panchina da Alessandro Vadi. La compagine valdarnese occupa il penultimo posto in classifica ma davanti al pubblico amico è riuscita già a superare la capolista Prato e due settimani fa il Val di Sieve. In casa Amaranto servirà grande determinazione per provare a dare continuità alla vittoria di sabato scorso contro il Lucca. Adesso facciamo un passo indietro e torniamo a domenica scorsa quando le bici e i partecipanti dell'Ardita 2023 hanno colorato Piazza Grande e noi li osserviamo da un punto privilegiato. È un lunghissimo serpentone colorato e dal sapore retro quello che ha attraversato la città di Arezzo. Circa 400 gli appassionati di bici d'epoca che si sono ritrovati in Piazza Grande per la partenza dell'edizione 2023 dell'Ardita, baciata quest'anno dal sole e dal clima primaverile. La regione è presente e ritiene l'Ardita una delle manifestazioni più importanti sotto questo punto di vista. La ciclo storica dell'Alpe di Poti è un valore da tutelare anche dal punto di vista della regione. Noi ci crediamo, abbiamo messo il nostro patrocinio proprio perché riteniamo che sia un'iniziativa meritevole. A precedere il via l'esibizione degli sbandieratori della giostra del Saracino. Piazza Grande è una bellissima cornice già di per sé ma con questi tanti atleti che si sono ritrovati stamattina qua da molti parti d'Italia devo dire c'è davvero un colpo d'occhio eccezionale. Tre come sempre i percorsi proposti dagli organizzatori, il gourmet pensato per tutti, il classico e l'Ardita con la sfida all'Alpe di Poti lungo la salita dedicata a Marco Pantani e già Gran Premio della Montagna del Giro d'Italia 2016. Siamo riusciti a creare questo percorso permanente dell'Ardita che valorizza il territorio, le strade bianche che abbiamo, le strade minori, la città, anche i borghi vicino e questo piace e fa bene anche al turismo della città. Chiudiamo con una notizia che riguarda l'equitazione per quattro settimane dal 21 marzo al 16 aprile. I più grandi cavalieri del mondo saranno protagonisti ad Arezzo del Toscana Tour, il concorso internazionale di salto ad ostacoli organizzato dall'Arezzo Equestrian Center con il patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione di Fiera Cavalli Verona che quest'anno taglia il traguardo delle 17 edizioni. Quattro Gran Premi, 1000 cavalli a settimana, 1500 cavalieri e amazzoni provenienti da 30 nazioni. Tra gli azzurri, protagonisti più attesi, ci saranno Federica Ciriesi, campionessa italiana in carica, e il carabiniere Emanuele Gaudiano, forte di due presenze alle Olimpiadi, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per l'attenzione e arrivederci.